amici di extreme hardware benvenuti a questa nuova video recensione quest'oggi vi parliamo nuovamente di una action cam in particolare della soko s60 come vedete dalla scritta sulla scatola soko è il nome del produttore stiamo parlando di un'azienda cinese dunque di un prodotto che arriva dall'estremo dell'estremo oriente come vedete la scatola è piuttosto anonimo c'è soltanto il nome del produttore sul frontale sul retro invece abbiamo alcune indicazioni sulle caratteristiche del prodotto tutte le specifiche le andremo però a vedere più più avanti apriamo subito la confezione per vedere che cosa contiene e soprattutto per vedere le caratteristiche di questa action cam e tutti gli accessori inclusi nella scatola abbastanza complessa da aprire ecco qua abbiamo una valigetta come abbiamo già visto nel caso della the glaze eyeshot one valigetta realizzata in tessuto apriamo la zip e andiamo ad analizzarne il contenuto ecco qua come nel caso della the blades abbiamo la valigetta divisa in due nella parte inferiore la action cam con alcuni accessori tra cui l'orologio per il controllo remoto e nella parte superiore una retina che contiene tutti i vari accessori vediamo subito nella parte inferiore abbiamo ovviamente la cam eccola qua in colorazione nero e arancio costituita principalmente da plastica e gomma ma anche il metallo per quanto riguarda la parte anteriore l'andremo ad analizzare con più precisione in seguito tra gli accessori abbiamo ovviamente un alimentatore da parete per caricare la batteria un supporto ad incastro che possiamo utilizzare con specifici attacchi sia per i caschi che per per esempio la fascia toracica ovviamente questo accessorio come tutti gli altri vi ricordo che sono pienamente compatibili con tutti gli altri accessori gopro c'è come vi ho detto l'orologio che svolge la funzione di controllo remoto vedete abbiamo i due tasti per avviare la registrazione fermarla per scattare una fotografia oppure per controllare lo stato appunto della connessione tra orologio e action cam qui in basso c'è anche una led di notifica che ci fa capire se l'orologio è collegato o meno alla cam l'orologio presenta anche il logo ovviamente della socco andiamo a vedere gli altri accessori c'è come al solito un manuale di istruzioni realizzato in inglese ci sono due adesivi per attaccare per esempio supporti come questo che abbiamo già visto prima al casco c'è un ulteriore supporto ad incastro compreso di vite c'è un supporto da casco con fascetta in velcro utilissimo in caso in cui si debba attaccare la cam al casco da bici per esempio c'è una vite poi ovviamente il cavettino usb micro usb per caricare la batteria un bracket che permette di modificare l'angolazione del supporto ci sono poi ancora un supporto da manubrio che può essere utilizzato sia in bicicletta che sulle moto infine dovremmo avere un supporto eccolo qua a cavalletto vedete la filettatura per utilizzarlo appunto con i cavalletti fotografici mettiamo da parte tutti gli accessori e vediamo subito la action cam eccola qua assomiglia molto a un modello che abbiamo già recensito ovvero la zeblades eyeshot one in particolare bisogna dire che la zeblades è una cam progettata specificamente per il mercato europeo mentre la socco è stata commercializzata inizialmente sul mercato cinese e orientale in genere in ogni caso le caratteristiche tecniche della zeblades eyeshot one e di questa socco sono assolutamente identiche le differenze principali sono ravvisabili nella colorazione se vi ricordate infatti la zeblades era completamente nera anche sul retro mentre questa socco ha dei colori più vivaci grazie a questo arancio e ci sono alcune piccole differenze nel firmware come vi avevamo fatto notare infatti la zeblades non permette ancora di realizzare dei timelapse mentre questa socco prevede invece la possibilità di realizzare i timelapse come vi ho già detto questa cam non presenta un case esterno perché è tutto integrato all'interno di questa scocca in misto gomma metallo e plastica gomma sul retro realizzata molto bene il feedback dei dei tasti sul retro piuttosto buono plastica per quanto riguarda tutta la parte intorno alla scocca della della cam plastica anche per l'attacco qui sotto compatibile con tutti gli accessori gopro metallo invece per la zona frontale zona tra l'altro anche dell'obiettivo sul frontale come il caso della della zeblades abbiamo un paio di led che possono attivarsi in modo da illuminare la zona che stiamo riprendendo oppure possono lampeggiare in modo da segnalare eventuali pericoli o difficoltà dell'utente che sta usando la cam in maniera identica rispetto alla socco abbiamo anche un tappo nella zona destra tappo dotato di uno ring in modo da rendere impermeabile la zona in questa parte della cam che presenta i connettori per la porta micro usb e la porta micro hdmi la linguetta ed i tasti superiori sono fatti in maniera assolutamente similare alla zeblades linguetta in plastica si apre in questa maniera ecco qua apriamo la cam troviamo una batteria in questo caso non è rimarchiata vedete che si tratta di una samsung slb 10a da 1050 mAh batteria estremamente semplice da trovare anche nei negozi italiani perché equipaggio appunto alcuni dispositivi della casa coreana togliendo la batteria possiamo accedere allo slot della micro sd in questo caso abbiamo installato una samsung classe 10 da 32 gigabyte vi ricordo che 32 gigabyte è la memoria massima della sd installabile su questo tipo di action cam come vi abbiamo già fatto vedere anche per la socco c'è il cavetto flat che si muove assieme al display potete vedere che la connessione seppur non nascosta è fatta comunque in maniera molto molto curata molto buona non si rischia di rompere il cavetto flat aprendo la cam già nel caso della zeblades avevamo dato un voto molto alto alla qualità costruttiva anche in questo caso possiamo confermare pienamente quanto avevamo già avevamo già detto la socco infatti è una cam estremamente solida molto compatta leggera che insomma a livello costruttivo è costruita in maniera davvero eccellente vi ho segnalato che la differenza rispetto alla zeblades rappresentata da questo colore arancio ma anche da alcune possibilità aggiuntive che sono presenti nel firmware di questa socco togliamo la pellicola e andiamo a vedere come è realizzato il firmware di questa cam basta tenere premuto per qualche secondo il pulsante di sinistra e la cam si accende eccola qua possiamo cambiare il menu della cam tra tre modalità ovvero quella di ripresa video dopodiché attraverso il tasto mode possiamo passare alla modalità di scatto fotografico e infine possiamo passare alla galleria degli elementi che abbiamo memorizzati sulla nostra micro sd torniamo un attimo sulla modalità di registrazione video vi faccio vedere i vari sottomenu accessibili attraverso questo pulsantino sotto il tasto mode possiamo impostare moltissime moltissime voci all'interno di questo menu in particolare la risoluzione possiamo scegliere tra 1080p 30 fps 720p 60 fps wga 60 fps e wga 120 fps per quanto ci riguarda abbiamo sempre mantenuto attiva la modalità 1080p 30 fps perché è quella che permette di raggiungere migliori risultati possiamo impostare una registrazione di tipo ciclico in sostanza la cam registra un video ogni 2 5 10 minuti possiamo ovviamente anche disattivare questa possibilità abbiamo la regolazione dell'esposizione che va da meno 2 a più 2 in termini di intervallo il bilanciamento del bianco che può essere mantenuto su automatico oppure su valori personalizzati possiamo attivare o meno il rilevamento dei movimenti anche se questa caratteristica così come la stabilizzazione dell'immagine diciamo che non permette di ottenere miglioramenti davvero tangibili per quanto riguarda la ripresa dei nostri video possiamo infine decidere se registrare o meno l'audio assieme appunto ai nostri ai nostri video passiamo alla modalità fotografica facciamo vedere anche qui le varie voci che sono selezionabili da questo da questo menu abbiamo la modalità di cattura che ci permette di impostare o meno un timer abbiamo la possibilità eccola qua quella importante dell'autofoto che permette di realizzare una sorta di loop infinito di scatti utilissimo nel caso in cui vogliamo realizzare dei timelapse in sostanza si attiva la modalità autofoto ogni 3 secondi 5 secondi o 10 secondi la telecamera continuerà a scattare fotografie ogni tot secondi e si interromperà solo nel momento in cui noi andremo a schiacciare il tastino di destra possiamo regolare la risoluzione delle nostre fotografie 12 megapixel 10 megapixel 2 megapixel vi ricordo che il sensore situato all'interno di questa cam e da 12 megapixel l'angolo di visuale è di 170 gradi dopodiché possiamo decidere se attivare o meno la sequenza di fotografie significa che la cam scatterà una serie di fotografie appunto in rapida sequenza in genere 3 o 4 possiamo modificare i valori di qualità dell'immagine su qualità alta normale oppure qualità economica possiamo modificare inoltre la nitidezza il bilanciamento del bianco i colori l'iso l'esposizione e possiamo attivare o meno la possibilità di rivedere in maniera rapida lo scatto che abbiamo appena realizzato in maniera magari da eliminarlo immediatamente se non ci soddisfa ulteriore possibilità inclusa all'interno del firmware di questa cam è ovviamente quella relativa alle impostazioni generali tra le impostazioni generali ne abbiamo veramente moltissime 5 pagine addirittura di impostazioni ci sono quelle relative alla connettività wifi che vedremo in seguito possiamo impostare la rotazione dell'immagine in sostanza utile nel caso in cui dovessimo appendere la cam in questo modo magari ad un supporto a ventosa per auto per esempio possiamo attivare come vi ho detto la modalità anti-shaking che permette di stabilizzare l'immagine anche se il risultato non è eccezionale possiamo decidere se attivare o meno lo spegnimento automatico dello schermo LCD da 1,5 pollici posto qui sul retro utile nel caso in cui si voglia cercare di risparmiare un pochino di batteria possiamo attivare o meno il controllo tramite remoto controllo realizzato attraverso l'orologio vedete anche in tinta tra l'altro che è incluso nella confezione possiamo settare ovviamente la data e l'ora impostando tra l'altro le preferenze per quanto riguarda la visualizzazione di data e ora a video oppure sulle foto possiamo impostare uno spegnimento automatico dopo un certo numero di minuti di inattività regoliamo la lingua in questo caso stiamo utilizzando il menu in lingua inglese ma c'è anche la lingua italiana ci sono moltissime tre lingue tra cui tedesco, spagnolo, francese, portoghese possiamo regolare la modalità dell'out tv quando è attivato ovviamente tra ntsc e pal torniamo un attimo al menu ecco qua allora abbiamo ovviamente la possibilità di attivare il tv out possiamo regolare la frequenza di questo schermino nel caso in cui si verifichi non sforfa lì possiamo regolare tra i 50 e i 60 Hz possiamo formattare la nostra micro sd che abbiamo inserito nella cam ripristinare le impostazioni predefinite e infine vedere la versione del firmware che è installata sul nostro dispositivo come vi ho detto questa cam è in tutto e per tutto simile alla the blades eyeshot 1 l'hardware interno è assolutamente identico la differenza principale è caratterizzata appunto dalla possibilità di realizzare dei timelapse tutto il resto è identico in particolare identica è anche la connettività attraverso l'orologio sono intercompatibili di conseguenza l'orologio della the blades funzionerà senza problemi anche su questo soco è un aspetto che può essere molto utile nel caso in cui magari abbiate già una the blades e vogliate comprare un'altra action cam in questo caso la soco è in sostanza la cam gemella della the blades connettività costituita poi anche dalla possibilità di attivare il wifi come vediamo da queste voci del menu possiamo settare il nome della rete wifi e impostare anche una password per quanto riguarda appunto il wifi si attiva in questo modo in maniera molto semplice dal menu dopodichè si può utilizzare uno smartphone aumentiamo solo la luminosità in modo che si veda meglio eccoci qua vedete che la cam si è connessa o meglio il telefono è riuscito a connettersi alla cam abbiamo provato questa cam con varie applicazioni per sfruttare appunto la connettività wifi in particolare sul play store ne trovate due a marchio soco anche se con android 5.0.1 in alcuni casi la cam potrebbe non funzionare pienamente vedete che in questo caso l'applicazione ci sta mettendo parecchio tempo per rilevare la connessione e infine ci dice che il collegamento è fallito proviamo la seconda applicazione di soco sperando che funzioni anche in questo caso ci dice che la connessione è fallita abbiamo fatto un tentativo infine con l'applicazione di zeblades vediamo se funziona ecco in questo caso siamo stati fortunati funziona vedete che comunque c'è un notevole ritardo nella trasmissione dell'immagine in questo momento sto inquadrando l'orologio però l'immagine spesse volte sgrana insomma non è comodissima da usare la funzionalità wifi non si può pretendere logicamente più di tanto perché stiamo parlando di un prodotto che è comprensivo di accessori costa un centinaio di euro poco meno diciamo comunque attraverso il wifi possiamo comunque comandare da remoto la cam possiamo in particolare avviare la registrazione oppure scattare delle fotografie possiamo regolare le impostazioni per quanto riguarda la risoluzione del video e la risoluzione delle foto ci sono ancora alcune voci personalizzate che però necessitano di traduzione infine possiamo accedere alla galleria presente sulla cam ecco queste sono filmati e fotografie che abbiamo sulla schedina micro sd come vedete insomma la funzionalità wifi la wifi è molto comoda ma presenta ancora qualche problemino che necessita di essere risolta insomma non abbiamo avuto tempo per testare tutte le applicazioni per le action cam presenti sul best store probabilmente ce ne sarà qualche altra fatta meglio che funziona in maniera migliore c'è solo bisogno di avere appunto tempo per testarle e trovare quella che è perfettamente compatibile con questa cam connettività rappresentata tra l'altro anche da questo piccolo neanche tanto piccolo in realtà orologio come vi ho detto attraverso questo tasto si può avviare o meno la registrazione si possono scattare anche delle fotografie tramite questo tasto invece è possibile richiedere informazioni sullo stato del collegamento tra il cam e l'orologio in base al tipo di colore che assume il led posto in questa posizione si può capire se l'orologio è ancora collegato al nostro cam oppure si è disconnesso magari perché ci siamo allontanati eccessivamente insomma vi abbiamo fatto vedere un po' tutte quelle che sono le caratteristiche di questa cam giusto per riepilogare abbiamo un sensore da 12 megapixel con angolo di visuale di 170 gradi doppio flash led sul frontale scocca impermeabile fino a 60 metri realizzata in metallo, plastica e gomma batteria Samsung da 1050 mAh che garantisce circa 120 minuti di registrazione continua in 1080p abbiamo compatibilità al 100% con tutti gli accessori GoPro supporto per micro SD fino a 32 GB possibilità di realizzare timelapse possibilità di collegare la cam tramite cavetto micro HDMI per riprese FPV oppure per trasmettere semplicemente quello che c'è memorizzato sulla SD sul nostro televisore nel complesso è un prodotto di assoluta qualità costruito in maniera impeccabile ci sono alcuni punti critici dovuti al fatto che si è deciso di non adottare un case esterno logicamente senza un case esterno il display e il vetro dell'obiettivo non sono particolarmente protetti ma questa è una scelta intrinseca alla progettazione questa cam costa circa un centinaio di euro diversi shop online la vendono intorno ai 90 euro sicuramente se la dovete ordinare direttamente dalla Cina e pagarla circa 90 euro diciamo che il prezzo non è estremamente concorrenziale in quanto si trovano oggetti simili per esempio su Amazon e comunque da rivenditori europei a poco di più tenete conto che se appunto la comprate in Cina ad un prezzo intorno agli 80-90 euro dovete sicuramente aspettare del tempo per la spedizione oltretutto dovete prepararvi anche a pagare in caso in cui siate particolarmente sfortunati la dogana il mio consiglio quindi è di comprare se riuscite a trovare un negozio europeo o anche in oriente se il prezzo è particolarmente conveniente sicuramente nel caso in cui il prezzo finale dell'oggetto fosse sotto i 100 euro si tratta di una cam che è sostanzialmente un best buy perché offre una serie di caratteristiche che sono assolutamente innovative a partire dall'orologio offre un'autonomia davvero eccezionale e in genere una qualità complessiva che è superiore rispetto ad altri cam come per esempio la SJ4000 che abbiamo anche utilizzato per effettuare una sorta di comparativa bene per questa recensione è tutto nel caso in cui abbiate dubbi o domande potete farcele all'interno dei commenti oppure direttamente sul nostro forum